La prossima devi farla più forte, Rock! Che è successo? Ti ha fatto a polpette! Stai lì sotto! Colpisci il sacco forte e rapido! Bella roba, Rock! Hai fatto tutte le combinazioni! Tempo! Tempo! Buona ripresa! Lo stai facendo indietreggiare! Un'altra buona ripresa! Non perdere la concentrazione adesso! Stocca e muoviti! La tattica funziona! Devi rispondere! Cerca di prendere fiato in questa ripresa, poi stocca e muoviti! Bel movimento! Continua a sgusciare e poi, boom! Colpisci l'incontro! Stai concentrato! Cerca di abbassarti sul diretto corto e poi scarica il grandestro! Ottimo! È stata una gran ripresa! Mantieni così! Gli stai telefonando i colpi! Comincia ad usare gli 1-2! Ottima ripresa! Stai sveglio e tieniti concentrato!